E' un vero piacere per me poter dare il benvenuto a nome di Borsa Italiana Gionics, società Benefit e PMI Innovativa. Siamo molto felici che abbiate scelto di quotarvi sul mercato in Italia per accelerare i vostri programmi di crescita che vedono tra le altre cose lo sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi servizi, l'incremento della capacità produttiva e la crescita per linee esterne. Congratulazioni per il successo dell'operazione. Per realizzare dispositivi innovativi abbiamo posto al centro delle nostre strategie la ricerca e sviluppo condotta nel Gionics Lab. Siamo Gionics, un'azienda italiana guidata dall'innovazione in un contesto industriale territoriale e con fortissime interazioni col mondo universitario. Siamo Gionics, un'azienda italiana guidata dall'innovazione in un'azienda italiana